Dopo il successo del primo appuntamento prosegue la rassegna lunatica agli archi nata dalla collaborazione tra il Moody Jazz Café e lo chef Nicola Russo, straordinari protagonisti internazionali per il secondo appuntamento di questa sera 4 marzo con inizio del concerto alle 21.45 presso agli archi di Villa Maria Ristorante Pizzeria saranno Charlie Hunter e Lucy Woodward in trio con il batterista Niek de Brugin. Presenteranno il progetto e il disco Music, Music, Music un'esaltante esplosione di blues, soul and funk che segna il debutto nato dalla collaborazione musicale tra il chitarrista e la cantante statunitensi. Hunter e Woodward sono conosciuti individualmente come artisti solisti ma hanno anche una carriera da sideman avendo collaborato in tour e in studio con grandissimi artisti come D'Angelo, John Mayer, Pink Martini, Nora Jones, Carole King, Barbara Streisand, Celine Dion, Joe Cocker e tanti altri. Music, Music, Music presenta 11 cover di brani radicalmente rielaborati di artisti che vanno da Blaine Willie Johnson a Bessie Smith, Danina Simone a Tauren Strand Darby. Questo è il simpatico video messaggio con cui i due artisti danno a tutti gli appassionati di buona musica appuntamento con la rassegna lunatica agli archi. Ciao Italia! This is Charlie Hunter. Kia ora sti buon word. We're coming March 4th to Archi, 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 Di Tira, Troia. And Troia, Italy. Troia, Italy. Not so close, not so close, not so close. Ricordiamo che il ristorante e pizzeria agli archi di Villa Maria si trova in Contrada Tavernazza al chilometro 12 sulla strada provinciale Foggia-Troia. No! 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 Demических an縦iri szereTwiz Grazie a tutti.